vai è stata una vita difficile, non è che difficile io li ho dimenticato fuori di sé vai vai hai darotto il cazzo guardami i piedi vai questo è un uomo di piedi allora vai io ho utilizzato il cazzo io ho utilizzato il cazzo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lei cucina. Ma è detto così, ma è il mio senso che sia proprio... No! 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 l'obiettivo il 2 è un bel buono ma levati dal cazzo per favore dai queste mutande bucate mica c'è una falla che ti sta uscendo ti levi lucia porca troia levati come la schia ha la contrattura ok ok lucia muoviti vio caro adesso ti prendo di forza no ecco a voi signori e signori marco paris un grande campione non non ecco a voi Grazie a tutti. 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 Il giudice totale incondizionato a tutto questo è Nostromano, 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 Nostromano e Signore Rossi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Riposo, riposo, riposo. 1, 2, 3, attenzione, giù, 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 giù. Non mi distraete, non mi distraete, io passo accanto a voi. Aia, addori, esperido, giù, 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 giù. ecco ora facciamo bene bene respirare e ripetere i nuovi bene, vedo anche vedo anche di carimbella ok, qua? si, ok bene, bene abbiamo anche una persona con i capelli rosa hai qualcosa da dire? no eeeh ciao infatti ma ancora uno siete tutti su ancora attenzione attenzione che stiamo a fare qua? stiamo scendendo due ancora due ancora uno attenzione 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 giù giù tutti tre che scendono e rimandano la sua figura pronti? patenza via allora cominciamo a fare qualche anche con Mirko ciao Mirko come va? no più o meno sei a testa in giù? lo sapete bene? eh non tanto bene comunque va bene ciao tu come ti chiamo? Gabriele di dove sei? a Milano ok come invece sei? a Juni lo stesso braccio Andrea vuoi dare un saluto ai tuoi compaesani? sì saluto a tutti sei grande Andrea attenzione attenzione e Milano se ne va poi attenzione qualcuno sta vuole mandare in calcio Andrea un altro le manca uno le manca uno le manca uno aia 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 attenzione 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 siete rimasti voi due la sfida è a un braccio più o due aia spiegaci perché di questo gesto perché è forense ottimo anche noi diventiamo forense vai vai va bene dai pronti pronti aiaia non è possibile due una via via ose l'isometria è raggiunta i muscoli contrazioni di istituzione subblocati aia 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 Grazie a tutti.